Anche per il 2020 a Castellabate restano invariate le aliquote e le tariffe dei servizi a domanda individuale e dell'imposta di soggiorno. L'amministrazione comunale con delibera di giunta numero 106 del 24 luglio 2020 non ha previsto aumenti per i servizi a domanda individuale gestiti dal comune, quali mensa scolastica, aree di sosta a pagamento, trasporto scolastico e illuminazione votiva. Nello specifico il costo del buono pasto viene confermato a 2,25 centesimi di euro quello del trasporto scolastico a 10 euro mensili e la tariffa per le lampade votive nell'importo di 25,41 centesimi di euro annui. Il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli commenta così la decisione tenere ferme le tariffe di questi servizi essenziali è fondamentale per non gravare sulle tasche dei cittadini che continueranno comunque ad usufruire di ottimi servizi a costi contenuti e accessibili a tutti.